3, 2, 1... Io il morto benedì inguinare non lo voglio, eh. Temo che sia in ipotensione spinta. Non sapevi state pensando che io sono la classica donna fragile, cornuta, ma non è vero, io non so fragile! Però sei cornuta. Mamma, ma chi ti ha portato qui? Ma questi chi sono? Sono tre stronzi! Ma quale caratteristica, parcheggiala sereno. Vigili urbani, ufficio di emozioni, mi hanno fregato la macchina. Mi hanno occhiato a quest'analisi, c'è qualcosa di strano. Ma lui lo sa. Mamma, Matteo! Adesso il problema è come dirglielo. Voi cosa dovevate dirmi? Si parte e si va in vacanza. Insieme. Che bel regalo che mi avete fatto! Sotto ore che giriamo come cretini per far contanto a questo. Purtroppo non è una vacanza questa, lo dico a te, lo dico a te. Dimmi quello che mi volevi dire. Che lo chef ha preso una bellissima ricciola. Madonna quanto mi piace la ricciola! Allora? Ricciola per tutti stasera, ricciola per tutti. Sì, mi piacerebbe sapere cosa pensate di me. Se vuoi te la dico io, la verità su di te. Sai tranquillo, siamo tutti... No, 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 a me da pro dire, va sta mano. Ci sono andato a letto. No. Io spero che tu, in questa cazzata, gli abbia detto però la verità. Voglio le hai detta? Facciamo un siltacchi! Ma mica stiamo a Padrasso, stiamo in Puglia. Che siltacchi? Ma tu ti rendi conto che sta vacanza è diventata una cosa surreale? Chi è? Professore? Ma voi siete tutti soli? Ma che mi avete messo in mezzo? Ma volete far fare un dog?